Insomma, guardate qui questo figuro, io non so neanche come commentarlo perché è chiaro che stiamo parlando di una persona che ha dei compiti, il primo compito è fare la guerra col culo degli altri, come si dice, voglio dire noi siamo seduti col nostro culo sopra alle bombe, però le bombe non è che dice sai stiamo a fare una guerra per noi, no, noi stiamo in mezzo e c'è uno dall'altra parte dell'oceano che che gli frega pure a lui, dice facciamo una guerra con i russi per l'Ucraina perché lì abbiamo i nostri cavoli eccetera, tanto poi ci pensa l'Europa a mettere le sanzioni che tanto vanno tutte contro se stessa perché il rublo si è triplicato e noi ci siamo dimezzati quindi le sanzioni a chi? A noi, no? Però lui non solo gestisce tutta questa storia, non sa ormai credo neanche più che cosa sta facendo, però poi continua a sparacazzate perché vediamo la prima diapositiva che ci dice il vaiolo delle scimmie in 12 paesi e qui questo il bidet di turno dice tutti dovrebbero essere preoccupati, questo Biden dice, attenzione, ecco tutti dovrebbero essere preoccupati. Sleepy, ma preoccupati di che? Io ho parlato con un sacco di medici, domani li avremo, ma di che preoccupati? Perché dice, beh c'è il vaiolo delle scimmie in 12 paesi, in 12 paesi, vogliamo vedere quali sono i 12 paesi con la prossima diapositiva, per favore con la 100, vediamo quali sono questi 12 paesi dove dovremmo tutti essere preoccupati. Guarda un po', guarda un po', Francesco, la diapositiva, adesso la raccontiamo per chi ci ascolta dalla radio. Tutti questi paesi dovrebbero essere preoccupati perché ci sarebbe questo virus che peraltro non è niente, questo vaiolo delle scimmie, eccetera. Guarda un po' se non coincidono con tutti i paesi atlantici della Nato, compresa l'Australia, sta dall'altra parte del mondo, però guarda caso pure là gli arriva. In tutto il resto del mondo no, Stati Uniti, Canada, i paesi dell'Europa, Nato sostanzialmente, e Australia, c'è la Nato. In tutti questi paesi, quelli occidentali, quelli dove governa questo signore, questo figurotto, tutte le colonie sostanzialmente, oh, avete questo problema, chissà che adesso non vi metteremo un po' di paura, fatevela un po' addosso, perché visto che il Covid ormai si sta spegnendo e quindi la gente sta cominciando ad allentare la paura, forse qualcuno si leva pure lo straccio dalla faccia, si spelliganizza, no? Ci sono gli irriducibili e quelli, lasciamo stare, no? Però, guarda un po' i paesi, ecco, però scusate, vogliamo... Diciamoli quali sono, Belgio, Regno Unito, Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Stati Uniti, Canada e Australia. Oh, questi sono i paesi dove ci sarebbe il vagliato di scimmia, poi c'è qualcuno però che in rete ha postato... Leggo, sì. Sì, ma questo l'ha detto Betten, non lo dico io, l'ha detto lui, l'ha detto lui, state preoccupati, state preoccupati, state preoccupati, ma non vi preoccupate, fra un po' arriverà un vaccinetto, chissà chi lo farà, chissà, guarda, facciamo una scommessa, una scommessa, ecco, però qualcuno ha fatto una giusta considerazione, vediamo un po' dov'è questo famoso vagliato di scimmia e dove stanno le scimmie, no? Cioè, che stanno da tutt'altra parte, cioè, vogliamo delle scimmie, stanno nei luoghi dove le scimmie non ci sono, cioè, beh, ma lì è endemico. Scusate, ma sarebbero anche qualche decina di migliaia di anni che questa storia esiste. Ma tutto insieme nel 2022, adesso, guarda caso, nel 2022, i popoli girano da millenni, millenni, là ci sono le scimmie e c'è un tipo di malattia endemica, qua da noi arriva stupidagginetta, eccetera, e guarda caso adesso, puff, si è esplosa sta cosa. Beh, intanto cominciamo a vedere se chi si ammala si è vaccinato o no. Dice no, ma è una cosa che si trasferisce solamente per via sessuale, soprattutto in alcuni casi. E allora perché dobbiamo essere preoccupati? Eh, perché chi non lo è, non lo è, chi invece lo è, ci sta attento, no? Ecco, e quindi il problema si risolve. Dov'è la preoccupazione? Basta dare delle indicazioni, no? Ecco, però vedi, caro Francesco, a volte queste cose servono per spaventare la popolazione. Perché quando la popolazione è spaventata, è chiaro che succede quello che noi vediamo. come si dice, si pellicanizza, io dico, questi pellicani fanno il becco così, no? Le mascherotte queste adesso vanno di modo così, no? E ancora c'è gente che sta a porta a 40 gradi, ma va benissimo, a me io sono, guarda, sono anche contento, no? Perché, per carità, a Roma si dice, stai bene così, stai bene così, non è un problema questo, no?